Scusa, potete giocare un po' più là, mi arriva la sabbia. Ancora più là, per favore, la sabbia vola. C'è chi viene al mare se non mi sopporto la sabbia? Scusa, è che sto studiando per un nuovo lavoro. Sono Viola, lavorerò qui come giornalista di nera e sono un po' preoccupata. Sai, mi hanno detto che l'ispettore capo di Mieta ha un po' rompiscatole. Tu invece sei? L'ispettore capo Francesco di Mieta. Ci vediamo tra poco con Viola come il mare. Buona estate. Francesca Chilleni, Gianni Aman. In prima assoluta, Viola come il mare. Prossimamente su Canale 5.